Sabato 25 maggio appare e in scena Parbacco, una rassegna gastronomica che dovrebbe tenersi all'aperto, almeno nel caso del piano A. Sì, abbiamo predisposto due piani, il piano A e il piano B, proprio perché questa festa, in particolare questo Parbacco, è un po' suscettibile a quelle che sono le condizioni climatiche, per cui abbiamo dovuto pensare anche a quello che potrebbe accadere. Quindi, se ci sarà bel tempo, cominciamo alle 5 e mezza con Aperitivo e con l'Ottavo Richter, che è un gruppo di fiatisti che girerà nella piazza con la loro simpatia e la loro musica veramente eccellente. A seguire la cena, che si terrà qui all'aperto e qui al piccolo bar, quindi nella piazzetta di Parresotto, e poi a seguire ancora Veronica Sbergia e Max De Bernardi, che all'aperto ci proporranno il loro folclore degli anni 20 e anni 30 americano, in una chiave bellissima e stupefacente. Quindi, grande festa. Se ci sarà bisogno di attuare piano B, quindi se le condizioni climatiche rimarranno quelle che le previsioni oggi stanno dicendo, ovvero acqua a tutto spiano, abbiamo pensato a cosa fare. Ovvero, qui in piazza è predisposta una saletta di vita dagli alpini, dove un po' di persone potranno mangiare. In più, dal piccolo bar qui dalla Marzia, si potrà mangiare e godersi lo spettacolo di Veronica e di Max De Bernardi. Quindi, spettacolo garantito al chiuso, cibo garantito al chiuso per gli eletti che vorranno venirci a trovare. I protagonisti saranno la cucina, ma soprattutto il vino. Quindi, che sia piano A o che sia piano B, avremo tagliatelle con selvaggina e stracotto di asino. E vini abbinati di conseguenza, quindi vini di tutta Italia abbinati di conseguenza. Al piccolo bar troverete invece il salame con la panna e abbinato a un vino di eccellenza. Quindi, noi garantiamo che con qualsiasi condizione climatica la festa la facciamo. Il parbacco anche quest'anno ci sarà e sarà festa. Che poi sia nella piazza, ossia all'interno di questi due bei locali che abbiamo a disposizione, questo lo deciderà al tempo. Però vi aspettiamo, vi aspettiamo. E poi in prospettiva arriva l'estate. Sì, arriva l'estate. Intanto questa primavera la condiamo e la sfidiamo con il nostro parbacco, che ripeto è sabato prossimo, con inizio intorno alle 17.30. Quindi venite qui, da qualche parte potete bere l'aperitivo o dentro o fuori e poi ci sarà da mangiare e da goderci la musica o dentro o fuori. Dopodiché l'estate speriamo che arrivi per davvero. Perché? Perché noi a fine giugno, il 29 e il 30, predisponiamo ancora i sapori e tradizioni. Quindi nel borgo di Parresoprea apriremo i cortili più significativi per portarci dentro da mangiare e da bere, spettacolo e musica e tutto quanto. Per cui grande festa, scarpinoce a tutto spiano, gnocchi in colla, capù, labernia e quant'altro. E quindi grande festa per tutti. Quindi noi il tempo lo sfidiamo. E faremo qualcosa di eccezionale e vi aspettiamo.